Hey, salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gazz734 Questa notte c'è stato l'aggiornamento di Bittiros, o meglio l'aggiornamento settimanale, quindi nessuna novità, diciamo, già programmata Che novità porta l'aggiornamento? Avremo a breve un nuovo contenuto Qui dice appunto, nuovo contenuto in arrivo presto! Oh, cazzo eh! Andiamoci a leggere la patch note perché sono molto molto curioso, a parte il ritorno qui delle varie robe, bla 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 bla, non ci interessa Ha aggiornato gli eventi PvP di prove di Nyx, prima c'era Cimento se non sbaglio, adesso hanno reinserito le prove In più annunciano una nuova zona e un nuovo ride in arrivo presto Per quel che ho visto nel mio periodo di gioco, che va da circa settembre 2017 e arriva fino ad ora che siamo a febbraio 2019 I nuovi ride delle nuove zone sono stati inseriti ad intervalli di circa 6 mesi Quindi, dando per scontato che l'aggiornamento del tier avvenga ogni 6 mesi, io ad ottobre ho detto buona Aggiornano ad aprile, ho tempo fino ad aprile per fare tutti i cazzi miei E invece, no, hanno anticipato di due mesi! Per quanto sono molto contento, dicevo, di vedere questo nuovo robot, no, cos'è, un golem enorme di pietre viola, quarzi magici e tutto Da un lato sono... non triste, però diciamo mi sento la pressa al culo, ecco, mi sento messa a fretta da parte degli sviluppatori Questo perché, ho sbagliato sezione, io sto lavorando al progetto di fare appunto Stratos Ed è un progetto che richiede ben 10 fusioni L'arrivo imminente del prossimo ride mi sta dicendo molto esplicitamente Guarda, ho push pesante perché altrimenti quando arriva il prossimo ride tu devi rimanere confinato al ride 6 anziché al ride 7 Perché altrimenti non lo puoi più finire questo Stratos E visto che mi mancano soltanto due fusioni, appunto, l'ho quasi fatto Io non potrei fare il ride 7 nel momento in cui uscirà ora come ora Ma questa qui è la mia situazione, di sicuro c'è chi già l'ha fatto, c'è chi già ne è insoddisfatto, c'è chi magari lo utilizza Io voglio assolutamente averlo perché sarebbe il mio primo mitico, quindi magari sarà inutile come la merda Però io lo voglio, lo desidero Andiamo a leggere il resto delle note Nuova zona ovviamente servirà a completare una nuova zona Per accedere al nuovo ride come appunto abbiamo fatto tutti quanti Qui siamo arrivati alla zona Se noi siamo al tier 9 vuol dire che Galaran è il tier 8, quindi la zona numero 8 Quindi adesso si andrà ad aggiungere la zona numero 9 E una volta completata sbloccheremo il tier 10 Quindi world boss di difficoltà tier 10 Potenziamento della mount in automatico nel momento in cui finiremo tutta quanta la mappa al tier 10 E ovviamente sblocco del ride che sarà del tier superiore rispetto all'ultima zona Quindi appunto noi avremo la zona tier 9 e il ride tier 10 Una cosa che un po' mi fa sorridere è il fatto che avrò la possibilità di fare questo ride E sbloccarmi 5 punti statistica in più Poiché ora come ora con un tier di vantaggio Ancora non riesco a farlo poiché il mio ruolo è quello di DPS E nel meta attuale del gioco il DPS è molto svantaggiato rispetto al tank Io non riesco a completare questo dungeon qui Quindi mi auguro che con il tier 10 riuscirò a completare questo dungeon E come me e tante altre persone E visto e considerato ciò che c'è scritto dopo nella patch note Forse anche questo dungeon qui Che cosa c'è scritto nella patch note? Andiamolo a leggere Con il nuovo contenuto abbiamo valutato la possibilità di ribilanciare I giocatori che fanno DPS e i giocatori che fanno tank Ed inseriremo cambiamenti anche per quanto riguarda il campo di gioco Diciamo il meta ecco chiamiamolo così Che riguarda questi due ruoli Questo che cosa vuol dire? Che i DPS verranno ribilanciati E quindi non ci sarà più questo divario enorme fra DPS e tank Dove un tank riesce a fare 200 o più livelli rispetto a un DPS Nelle prove di Nyx Ciò che mi rende felice riguardo questa notizia È appunto il ribilanciamento per quanto riguarda i DPS Ciò che mi preoccupa però è che non dicono in che modo verrà bilanciato Quindi c'è la possibilità che vengano nerfati i tank Così da esaltare di più, diciamo, i DPS E questa è una cosa che mi preoccupa molto Perché se potenziano i DPS è perfetto Va benissimo, siamo tutti più forti Tutti quanti riusciamo a fare meglio le cose Ma se nerfano i tank e inseriscono una nuova difficoltà Allora avremo una gran bella gatta da pelare per il prossimo aggiornamento In più c'è qui scritto che eventi esistenti come il PvP oppure il GVG Che sarebbero il giocatore contro giocatore o il gilda contro gilda Riceveranno anch'essi qualche aggiornamento con il nuovo contenuto Che cercheranno di mantenerli competitivi e remuneranti Tradurrei questa parola Rewarding Pudino, sto registrando In più qui si parla di altri vari aggiustamenti Quindi si spera in qualche traduzione sbagliata Magari una nuova lingua Non so, non mi interessa della nuova lingua perché l'italiano c'è Ma le traduzioni sbagliate, ecco quelle Sarebbero molto interessanti da fixare Ma la cosa molto interessante che è stata inserita al finale è questa Tan 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 Finalmente con il nuovo aggiornamento Noi aggiungeremo una nuova eccitante caratteristica Relativa ai famigli E qui sono molto 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 curioso di sapere che cazzo faranno coi famigli Sono davvero molto curioso Anche perché io in questo periodo visto che ho finito appunto Sono maxato tutto quanto tier 10 Tier 10, vabbè magari già tier 10 Sono tutto tier 9 E ho tutto quello che mi serve In questo periodo mi sono messo a farmare famigli Per aumentare la mia collezione Perché quando ti trovi a non avere più niente da fare Perché World Boss non lo devi più fare L'energia ti avanza Dici buona facciamo i famigli Perché mi sto scocciando Quindi sto cercando di fare più fusioni possibili Ottenere non dico tutti e 300 tra i famigli Perché sono tanti e sono lunghi e sono difficili Però mi piacerebbe arrivare almeno 200 Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa novità Se l'avevate già letta Se ancora non l'avete letta Se pensate che abbia tradotto o interpretato male qualcosa Fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo Qui sotto con un commento Perché sono molto molto curioso di sentire la vostra opinione Inoltre alleggo qui sotto un link per un progetto che riguarda appunto YouTube e BitTiros Chiunque di voi abbia voglia di aiutarmi Potrà farlo semplicemente cliccando sul link qui sotto in descrizione E scrivendomi nel documento Google le sue idee Questo video ragazzi lo chiudo qui Vi raccomando commentate e fatemi sapere che ne pensate Se siete preoccupati soprattutto se siete tank dovreste preoccuparvi perché Non lo so Io avrei paura se fossi un tank Ma visto che sono DPS sono molto contento che ci sarà il bilanciamento Questo video lo chiudo qui Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima